che spinge subito l'azione, il pallone per Depretto, caricata dalle compagne, qui la stoppatona però di Diamond Deschils, che adesso vuole anche il contropiede, va da Cinelli, che azione! Il rimbalzo di Nativi, corre ancora Vigarano, senza sosta ancora, Harrison, cancella Natali! Questa aggressiva, perde palla, perde palla Ramù, grande scoppata di Stefania Trindoli. Grazie a tutti!